Ciao ragazzi, Antonio Enrico di lezione di chitarramoderna.com In questo video voglio condividere con te 5 concetti false, 5 cose false che molti studenti credono e che spesso condizionano il nostro modo di suonare e di imparare a suonare la chitarra Se sei nuovo da queste parti e vuoi continuare a migliorarti con la chitarra volevo giusto consigliarti di iscriverti al canale o alla fanpage se sei su Facebook clicca iscriviti e c'è anche una campanellina su YouTube così in questo modo riceverai notifiche e qui si parla di chitarra quindi se vuoi imparare questo qui è il posto giusto Ok, allora passiamo a queste 5 credenze, questi 5 concetti Il primo concetto è che devi iniziare con la chitarra classica o acustica il che non è assolutamente vero In tanti pensano che devi imparare a suonare la musica classica sulla chitarra classica per imparare bene Non è vero Secondo me, la mia personale opinione riguarda quello che devi iniziare con la chitarra e con la musica che vuoi Ok, se sei un appassionato di chitarra classica, di musica classica Allora impara a suonare la musica classica Se sei appassionato di rock o di jazz Allora parti da lì, parti da dove ti batte il corazon Ok, è importante seguire le proprie passioni perché facciamo questo lavoro sullo strumento con passione E quindi è giusto coltivare questa passione suonando la musica che ci piace Quindi se preferisci per esempio imparare la musica rock e vuoi partire direttamente dalla chitarra elettrica Allora va bene lo stesso Ok, l'importante è continuare a tenere accesa quella fiamma Poi ovviamente imparare su uno strumento acustico ha dei vantaggi Come per esempio il fatto che la chitarra acustica, le corde sono più spesse Quindi ci aiutano a costruire una tecnica migliore che sulla chitarra elettrica Dove le corde sono più sottili ed è più semplice a suonare Ok, però ecco questo qui non dovrebbe essere il nostro punto di partenza Noi dovremmo partire dalla musica che ci piace Ci piace imparare la chitarra acustica? Allora partiamo da lì Ok La seconda bugia è che bisogna avere uno strumento costoso per iniziare a suonare la chitarra Il che non è vero Ho incontrato della gente che se non aveva la chitarra di Mark Knopf sull'album Brothers in Arms Oppure la Gibson degli anni 60 non suonava Poi andavano a suonare e conoscevano 3-4 accordi Magari lo facevano più che altro per motivi di collezionismo Il che ci sta, se te lo puoi permettere, perché no, certo Però ecco, quello non dovrebbe fermarti dal suonare la chitarra Oggi come oggi soprattutto Con la tecnologia e il fatto che molte ditte vanno per esempio in Cina, Messico A produrre le loro chitarre Cosa succede? Che i prezzi si sono abbassati e la qualità si è alzata Quindi spesse volte con poco puoi permetterti un ottimo strumento Un buon strumento per iniziare Quindi ecco, ci sono tantissime sottomarche Tipo la Gibson fa la Epiphone La Fender per esempio fa la Squire Oppure la Fender fatta in Messico Quindi ecco, assicurati di dare un'occhiata anche a quegli strumenti E poi spesse volte basta avere un buon settaggio della chitarra Per trasformare una chitarra mediocre in una chitarra buona Ok, quindi ecco, queste sono alcune cose da considerare Un'altra bugia è il fatto che devi utilizzare delle corde spesse sulla chitarra Quindi in tanti se non monti 0,12 sulla chitarra acustica Oppure 0,10 sulla chitarra elettrica Iniziano a pensare che sei un pappamolle Invece non è così Perché in effetti puoi ottenere un buon suono anche da corde più leggere Per esempio io sull'acustica utilizzo le 0,11 Sulle elettriche utilizzo le 0,9 0,946 in effetti Però ci sono tantissimi, tipo il chitarrista degli Zizi Top Che, Gibbons Che Utilizza il 0,8 sulla chitarra elettrica Ok, quindi ecco Non facciamoci prendere da queste cose qui Queste qui sono delle bugie Se ti rendi conto che hai difficoltà a premere gli accordi Eccetera Allora puoi anche pensare a cambiare Scalatura di corde sulla chitarra Magari cercare di andare su corde più sottili Che ti permetteranno di suonare con più facilità Un'altra cosa falsa è l'età In tanti pensano che devi iniziare da giovane Il che non è assolutamente vero Ragazzi L'ho detto in altri video e lo ripeto qui Perché questo qui è un aspetto estremamente importante L'età non conta Ok E la passione E il tempo che si dedica allo strumento Che conta Ovviamente Il ragazzino di 12 anni 14 anni Dopo la scuola Ha tanto tempo libero Più magari rispetto a una persona che lavora Che ha più responsabilità E quindi si dedica di più allo strumento Allora si vedono risultati più velocemente Però alla fine Il numero di ore che devono essere impegnate È più o meno lo stesso Sia che tu sia un adolescente Sia che tu sia un pochettino più grande Ok Quindi ecco Non facciamoci ingannare da questa cosa qui L'età non conta Un'altra bugia è quella che bisogna già da subito imparare A leggere la musica Il che non è vero Soprattutto sulla chitarra Ok Il dove Questo qui è uno strumento molto intuitivo Qui stiamo utilizzando Diteggiatura discale Di accordi C'è la tablatura Quindi per chi si avvicina allo strumento Dedicarsi a spendere del tempo Alla lettura musicale Potrebbe essere un pochettino tedioso E potrebbe diciamo Fermare in tanti dal continuare L'apprendimento della chitarra Quindi All'inizio Anche io personalmente come insegnante Non tratto questi argomenti Ok Perché c'è del tempo Uno può già imparare Imparando dalla tablatura E con altri sistemi come questo Quindi ecco La lettura musicale Non è estremamente indispensabile Soprattutto all'inizio Anzi Ti dirò di più Ci sono tantissimi musicisti Di fama mondiale Che non sanno leggere la musica Ok Gli sarebbe servito Sicuramente sì Però Hanno imparato In altri modi Ok Imparare a leggere la musica È un pochettino come imparare a leggere Ok Se sai leggere velocemente Impari più cose Da libri Eccetera È la stessa cosa Anche la lettera musicale Oggi come oggi Comunque come dicevo C'è la tablatura Quindi in tanti Già iniziano a imparare così Quindi all'inizio Lo trovo un metodo Più semplice È veloce Per gli studenti Nell'apprendimento Ecco Queste sono Giusto Alcune delle bugie Che volevo giusto Troncare Lì sul nascere Così che Chi guarda questi video Può apprendere Se mi sono dimenticato qualcosa Puoi sempre lasciare un commento E farci sapere Così che Vediamo di rettificare Magari con futuri video Comunque sia Ragazzi Queste azioni sono gratuite Quindi Se ti stanno aiutando Clicca mi piace Condividere con i tuoi amici E lascia un bel commento Grazie di nuovo Alla prossima